Benvenuti nella conto della segna stampa delle notizie non diffuse in Italia dai media euro-atlantisti. Come scrive Rai News, New York Times, tutto parte sempre dai media legati alla galassia, Sioros, guardate caso, Russia lavora ad arma nucleare antisatellite, l'avrete letto nella giornata tra ieri e oggi, questa notte, intorno a questa notte, non solo sul Rai News, sul sito pubblico italiano. Sentite, potrebbe rappresentare minaccia internazionale, Camera USA, da un repubblicano, discutere, che dovrebbe essere un neoconda quello che ho capito, un certo Mike Turner, discutere con gli alleati, cioè quelli che la Russia, Putin chiama, o anche mete, chiamano satelliti europei, soprattutto del vecchio continente, la Nato, nell'ambito dell'alleanza nord-atlantica, discutere quindi con Italia e Ungheria, per esempio, azioni mirate di risposta. Un ex funzionale statunitense, si legge più in basso, vado veloce, non è una notizia, è un articolo in italiano, lo vedete, tentativi di Mosca di sviluppare un'arma nucleare antisatellitare, antisatellite nello spazio, un politico americano, missile ipersonico, Zircon, vettore, elude sistemi di difesa occidentali. Finora soltanto Mosca, ricorda Rai News, ha già a sua disposizione questi vettori, questi missili. Negli Stati Uniti sono ancora in fase sperimentale, ore, gelo a Washington, surreale, psicosi, panico da pericolo immediato. Chiusura dell'articolo, qualcuno ha ipotizzato tutto questo, Turner, la Camera, il Repubblicano, serve questo annuncio su X per convincere il resto del Partito Repubblicano, soprattutto i trampiani, ad approvare il pacchetto d'aiuti a chi è da 60 miliardi di dollari, già passato al Senato, guidato dai democratici che con i neocon fanno passare agevolmente tutto, anche il pacchetto da 95 miliardi circa, con dentro aiuti militari anche a Israele, ma non alla difesa dei confini americani con il Messico meridionale. Quindi sempre Rai News, lo stesso sito, i russi che finivano, lo ricorderete, secondo la propaganda ultraatlantista, i missili microchip. Articolo del 6 settembre 22, come potete vedere sempre in italiano, Rai. Sanzioni tech mettono in crisi lo sforzo bellico di Mosca, microchip introvabili. Taiwan lascia bocca asciuta, anche Taiwan lascia bocca asciuta, di semiconduttori l'industria bellica russa di Putin. Washington Post però, qualche giornata fa, 3 febbraio scorso, Taiwan ha venduto dal 2023, vedremo poi i dettagli, più di 20 milioni di dollari in componenti elettroniche alla Russia per costruire missili. Washington Post parla soprattutto di Machine Technology 2023, un'azienda che da gennaio 2023 ha venduto componenti chiamate CNC per missili a livello tecnologico, sempre di semiconduttori. 63 carichi a Mosca per costruire armi da usare anche in Ucraina. Quindi letteralmente il contrario di quello che dice la Rai, lo dice il Washington Post. Sono stati diramati i numeri delle aziende europee, dell'Unione Europea e americane degli Stati Uniti che sono e sono andate in percentuale rispetto al totale di quelle che operavano nel paese. Secondo i dati riferiti dal vice primo ministro russo Denis Manturov, sono andate via per quanto riguarda le grandi aziende europee circa il 20% di quelle che operavano prima del 24 febbraio 2022, l'americane addirittura solo il 16% del totale. Secondo Manturov, molte di quelle che sono rimaste in Russia continuano ad accrescere gli investimenti in ricerca, eccetera, per l'aumento della produzione e i profitti. Un numero che arriva, numeri che arrivano, secondo Manturov, dalla federazione delle aziende europee, 500 grandi aziende europee operavano prima del 24 febbraio 2022 in Russia, solo 100 hanno lasciato l'enorme paese, sterminato paese degli 11 fusi orari. Per quanto riguarda invece i dati dagli Stati Uniti, 350 aziende totali, solo 66 si sono allontanate per quanto riguarda aziende di un certo fatturato, solo una certa soglia di miliardi di rubli annui sempre dallo stesso paese guidato dal Cremlino di Putin. C'è un'ammissione da parte del nuovo capo di Stato Maggiore etnicamente e culturalmente ruso con famiglia che vive ancora in Russia nell'oblast di Vladimir, Sirsi, capo di Stato Maggiore delle AFU delle forze armate ucraine dopo l'addio di Valeriy Salushni, motivato e firmato, voluto dal presidente Zelensky. Situazione straordinariamente pesante e una situazione molto tesa e vari fronti di guerra. Un messaggio, un suo messaggio, sempre di Sirsi, che vedete in foto su Telegram, Oleksandr Sirski, ex capo delle forze di terra ucraine, va ricordato. Visita sua insieme al ministro della difesa, il tataro della Crimea, Rustem Umerov, sul fronte di Avdeivka e di Kupiansk, dove i russi hanno migliorato nelle ultime settimane le posizioni, lo sappiamo bene su questo canale. Le forze armate russe, ammette Sirski, sono in un numero maggiore, hanno un vantaggio per quanto riguarda il numero dei soldati e delle nuove leve, hanno poi una superiorità anche nell'aviazione d'aria e nell'artiglieria, soprattutto pesante. Avdeivka, nelle ultime settimane, per quanto riguarda il corridoio ucraino di arrivo di nuove leve, viveri, armi e munizioni, ha subito una restrizione del corridoio a meno di 5 km di larghezza, proprio per il miglioramento, il controllo maggiore delle forze armate russe, che minacciano quindi un accerchiamento di Avdeivka dopo la conquista di Marinka. Ci sono, riporta poi la fonte, sempre sirsica, fonte ucraina, circa mille civili ancora che sono rimasti nella cittadina Avdeivka, nel Danesk, in Donbass. Il Cremlino ha smentito le voci stampa di Reuters, quindi dall'anglosfera, che Putin avrebbe consigliato un cessato il fuoco, avrebbe proposto un cessato il fuoco agli Stati Uniti d'America. Tutte bugie per Pieskov. Intanto direte, e molti scrivono, perché non parli degli attacchi ucraini alla Crimea, un'altra nave della flotta del Marnero russa affondata, l'equipaggio forse morto, quanto ricordano, e riportano i media occidentali, anche i principali italiani, sulla base delle fonti ucraine. Perché non parli degli attacchi ai depositi di carburanti e di Kursk? Perché se lo fanno loro e voi conoscete quelle notizie, le potete vedere in italiano, Io che sto a fare, a tradurre articoli dell'ungherese per raccontare la stessa cosa, cerco di raccontare volontariamente, per mia libera scelta, il lato della Luna coperto, non in luce, e lo ricordo. Questi attacchi ucraini non cambiano l'esito della guerra, che poi non sono attacchi ucraini, sono compiuti dagli ucraini con l'aiuto, la strategia, i satelliti e tutto il resto, occidentale, Nato. A proposito, mistero su un incendio della struttura, della sede, del palazzo, del giornale russo Izvestia, che molte volte è preso da me anche come fonte da Orosire e da vari giornali ungheresi per le notizie. Siamo a Mosca, in piazza Pushkin, giovedì intorno alle 5 di mattina. Una persona addirittura scomparsa per le esplosioni, il fumo e tutto il resto. Altro mistero, come per il gasdotto nel Baltico, in Iran, il più grande gasdotto iraniano, in Teheran e dintorni, è andato a fuoco. Grande esplosione, lo riporta l'agenzia stampa locale Meher. Siamo nei pressi della città di Boruyen. Un altro mistero che si va ad aggiungere a tutti gli altri. Ufficialmente è stato, voltiamo pagina, consegnato al ministero degli esteri ungherese, Siarto Peter, un reclamo ufficiale per cacciare l'ambasciatore americano David Pressman, altivista LGBT. Vedete nella foto in cui si affacciò qualche giorno fa il balconcino del Parlamento ungherese per spronare anche quelli di Fides assenti, una seduta voluta dall'opposizione arcobaleno europeista, votare l'ingresso, la ratifica, da parte dell'Ungheria, della Svezia, di Stoccolma, nell'alleanza non-atlantica, nella Nato. Promotore di questa iniziativa contro l'ambasciatore di Washington, Tegni Ishtvan, un insegnante, già protagonista di un altro reclamo, denuncia qualche annetto fallo raccontato proprio su questo canale. Dice lui, l'interesse nazionale, la sicurezza nazionale è un valore fondamentale, dovrebbe esserlo anche in Ungheria. Non permetteremo che delle influenze straniere destabilizzino appunto l'Ungheria geopoliticamente, economicamente. Sempre a Budapest è stata mantenuta la calma, mantenuto l'ordine pubblico, grazie alla strategia della polizia ungherese, rapporto di Police Fondue, domenica scorsa. Quindi niente, caccia all'uomo come un anno fa, tutto si ricollega al gruppo Hammerband e Antifa, Ilaria Salis, sapete tutto. Domenica scorsa, centinaia di identificazione, sei persone fermate e arrestate, radicali di destra, radicali di sinistra, sequestrate, armi, airsoft e spray al peperoncino. Quindi non è successo il caos come previsto dal TG1 Rai qualche settimana fa che parlava di Budapest, delle autorità ungheresi, terrorizzate da quello che avrebbe potuto essere un caos nella capitale Maggiara. Per chiudere, la Polonia di Tusk, europeista, adesso perfettamente stato di diritto europeo, che rispetta i valori europei, non come sotto il governo diritto e giustizia di Morawiecki. Il ministro, non ministro delle pari opportunità, o ministra, se preferite, è molto attenta alla questione dei giovani queer. Una certa ministra, Katarsina Kotula, ha annunciato su X l'avvio di una classifica ufficiale statale delle scuole amiche LGBT. Vedete il suo messaggio sulla piattaforma ex uccellino ormai di Elon Musk. E la televisione pubblica polacca, con tutto quello che è successo anche di violento, nel perfetto stato di diritto europeo, che censura ovviamente tutto, In diretta su TVP, i giornalisti hanno chiesto scusa ufficialmente ai cittadini per gli ultimi otto anni di attacchi omofobi contro appunto i polacchi, delle minoranze sessuali. Attivisti queer in diretta, ospiti di un programma del TVP Info, come potete vedere, che era stato sospeso nelle trasmissioni qualche settimana fa a gennaio, se non erro. Come riporta questo sito LGBT ungherese, perché qui non c'è pluralismo dell'informazione, Donald Tusk, nuovo primo ministro, ha annunciato in Polonia l'arrivo di un nuovo vento di modernità, di cambiamento rispetto all'era conservatrice cristiana. Permettetemi un commento, speriamo che questo vento non arrivi mai, per esempio qui in Ungheria. Grazie per aver visto questo video al prossimo tra Italia e Madja Rorsak.